Il tessuto è molto molto elastico Questa stampa zebrata che io adoro usarlo E' molto comodo La scelta bianca mi piace un sacco il bianco E guardate che bello ha detto sui leggings Troppo più innamorata appena l'ho visto perché Possiamo ora quest'altro set Ecco qui il bra, le spalle Con questi elastici che si incrociano Della parte superiore delle spalle E quella della schiena Ed è tessuto molto aderente a la pelle E qualcosa di... Questo pratico, comodo e strano Ma anche per il tempo libero E anche in casa tranquillamente Come vi ho fatto vedere prima Morato sulle braccia e sul fianco Veramente mette l'esalto Ecco l'ultimo Ragazzi Ragazzi poi Vi dovete dire Quale mi sta meglio Innamorata di questo verde Logo Dell'azienda Veramente Comodo Adesso Davvero Leggings Super comodo ragazzi L'effetto push up Guardate Stupendo Ci tengo poi a sapere cosa ne pensate Come vi sta addosso Ecco la verba Oceans apart Ciao ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Il video Di oggi È molto Molto Particolare Allora Sono lieta Sono lieta Per dirvi che Oggi Vi porto Un video In collaborazione Con un'azienda Molto 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 Speciale Sono lieta Di portarvi Sul mio canale I prodotti Di Oceans Apollo Vi mostrerò Alcuni set Che Mi hanno Inviato Molto Particolari Molto 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 Belli E Ve li mostrerò Anche Come Mi stanno Indosso La cosa Particolare Di Quest'azienda E che Ha ricevuto Numerose Numerose Certificazioni In quanto Non Utilizza Prodotti Di Origine Animale Ciò che Vi mostrerò Oggi È Ideale Per lo sport Per il tempo Libero O Anche Semplicemente Per stare Più comode In casa Vi mostro I tre Bellissimi Set Che Mi hanno Inviato E Partiamo Dal Primo Set Set Il primo Set È Serena Set Deluxe Ed è composto Da Serena Band Serena Neckholder Bra E Frances Croppy Sweater Spero che La pronuncia sia corretta Perdonatevi Se sbagli Questo è Ombra A Girocollo Come Potete Vedere E Materiale Leggermente Lucido Realizzato Interamente In Poliestere Riciclato Al suo interno Vi faccio Vedere Al suo interno C'è un foro Come potete Vedere Ha delle cope Potete Decidere Di Indossarlo Con O Senza cope Perché Appunto Sono Removibili Io Adoro Questo Set Serena A parte Che Molto Triggeroso Altanto Ma Mi è piaciuto Molto Perché Io Adoro Il L'effetto L'effetto Zebrato Vi Mostro Il Retro Al suo interno Il Logo Dell'azienda Che Io Trovo Davvero Bellissimo Bellissimo Un tessuto Ragazzi Molto 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 Elastico Io ho scelto La taglia S E Mi sta benissimo Ma Il tessuto È davvero Elastico E Soprattutto Performante E Una volta Indossato Indossato Già Sono belli Da Vedere Ma Una volta Indossato Rimarrete Veramente Soddisfatte Regala Un Corpo Da Paura Vi Mostro Il Secondo Pezzo Di questo Set Il Secondo Di questo Set È Il Punt Ed È Un Modello Ad Alta Vita Il Materiale Anche Questo È Leggermente Lucido A Due Taschine Sul Retro Ve le mostro Ci sono Due Pratiche Taschine Io Vorrei anche Precisare Una cosa Non Sono Molto Alta Come Già Sapete Questi Leggings Questi Pant Addosso Mi stanno Benissimo In quanto Cioè Possono Essere Indossati Anche Da Ragazze Di media Statura Perché Appunto Non Sono Solo Studiati Per Chi Alto Quindi Stanno Benissimo Indosso Anche Alle Ragazze Di Media Statura E Questa cosa Ragazzi Mi piace Un sacco La cosa Bella Tra l'altro Di Questi Leggings E Che Vi Regaleranno Un Effetto Push Up Al Schiena Quindi Rimarrete Satisfattissime Questo E Anche Molto E Un tessuto Anche questo Chiaramente Molto elastico E Sono Sicura Vi troverete Benissimo Voglio anticiparvi che per voi ho una bellissima straordinaria sorpresa perché potrete usufruire attraverso il mio codice sconto Mary Jane potrete usufruire di una fantastica promozione perché attraverso il codice sconto Mary Jane avrete il regalo completo a vostra scelta con un carrello minimo di 79 euro potete acquistare qualsiasi set a vostra scelta e poi ne potrete scegliere Le potrete scegliere un altro gratuitamente dal free gift chooser per completare il primo set serena set deluxe vi faccio vedere il cropped sweater spero si pronunci così Ed è appunto una 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 verba Corta Taglio Taglio Cropped Ha un taglio cropped Il colletto alto A costine Colisse per vestibilità personalizzata vi faccio vedere guardate qui sotto c'è un elastico come vedete che stringendo Questo Fa reggiare la parte inferiore di questa felpa e la rende tipo effetto palloncino E per un effetto corto bellissimo E ora ve lo mostro Ve lo mostro indosso Questa è bianca ragazzi come potete vedere Ma ora vi faccio vedere come mi sto addosso e poi passiamo agli altri due set Eccomi con indosso il set Eccomi con indosso il set Lo trovo veramente fantastico come mi sta indosso Ve lo mostro sia come sta sul davanti Vedete gli elastici sono? Il tessuto è molto molto elastico Ha un'aderenza come vi dicevo performante Particolare Con questa stampa zebrata che io adoro tantissimo Beh Veramente lo trovo divino In realtà vi devo dire È come una seconda pelle addosso Perché Sembra quasi di non indossarlo È molto comodo Questa è la felpa Appunto fa sempre parte del set Come vi ho fatto vedere prima La scelta bianca Mi piace un sacco il bianco È molto molto caldo Da qui la potete Stringere Quindi di conseguenza colgiare A modi Quasi Anche se non lo è E guardate che bello effetto sui leggings Troppo troppo bello E io Di questo set mi sono subito innamorata Appena l'ho visto Perché Trovo che mi stia Veramente bene Pensavo già Quando l'ho visto che Poteva starmi bene Ecco si è Bene Come vi dicevo In infobox Troverete Tutti I dettagli Per poter usufruire Di questa fantastica offerta Che vi offre Oshampa apart Attraverso il codice scotto Mary Jane Potete soffrire di questo sconto In infobox Troverete tutto ciò Che vi necessita Per Poter approfittare Di questa fantastica offerta Perché nelle info Vi lascio appunto il link Dove poter acquistare Se vi va Passiamo ora al Beauty set deluxe Che è composto da Beauty pant Beauty bra E Beauty long Sleep Partiamo dal Beauty bra Che è una sorta di Top È una sorta di Top Ed è Ed è Nero Con Scritta Con il logo dell'azienda Appunto Ocean apart Guardate quanto è bello sul retro Io mi sono innamorata Io mi sono innamorata Quando l'ho visto sul sito Io mi sono innamorata ragazzi Si incrocia Davanti e dietro le spalle Questo è il retro Ha due elastici qui E Anche questo È una taglia S Le caratteristiche di questo Bra È Di tutto il set Beauty deluxe Sono Appunto Elastico Modellante Tessuto Performante Four way Stretch E Un'asciugatura Rapida Sono Traspiranti E Resistenti Vi farò vedere anche questo Come mi sta indosso Anche questo ragazze Ha le coppe al suo interno Rimovibili Al suo interno Come potete vedere Il logo dell'azienda Molto carino Con questo cuore Troppo Troppo carino ragazze Troppo Troppo Passiamo Al Pant Quindi Al leggings Il leggings È un qualcosa di spettacolare Anche lui con elastico in vita Elastico in Vita E Ed è appunto In A vita Alta Come Il Leggings Precedente Anche questo Vi regala Un effetto Push up Straordinario Vi dicevo Come prima La lunghezza La lunghezza della gamba Non è eccessivamente lunga Quindi sta bene indosso Alle ragazze Anche Di Media statura Nella parte inferiore Sinistra Della gamba Il logo Il logo Il logo di Ocean Apart Bellissimo Troppo bello ragazzi E Per Per finire L'ultimo Componente Di questo set Il Beauty Long Sleep Del quale Sono praticamente Innamorata Perché Ha un tessuto Traforato Guardate qui Un tessuto traforato Bellissimo Bellissimo Ve lo mostro meglio E' corto E' corto Ragazzi E lo potete appunto Indossare Se Nel fare sport Sentite un po' di Fresco Magari Senza stare Solo con Il brand osso La manica Ragazzi E' tutta Traforato Potete tranquillamente Mettere sopra Questo Se Se necessitate Ed è bellissimo Poi Ha questa caratteristica Dove Potrete Potrete infilare La mano Qui il pollice E vi arriverà appunto qui Questa parte qui Vi arriverà Il Bolsino Infilando appunto Infilando appunto Da qui Il pollice Quindi vi darà un effetto Veramente Molto Molto carino Il retro Il retro Il retro Il retro Il retro E' traforato Ai lati E' veramente addosso Da un effetto Magnifico Ragazzi Ve lo mostro Ve lo mostro Come mi sta Anche questo E' un tessuto Ovviamente Molto Molto Elastico E' Asciugatura Rapida Possiamo ora Quest'altro set Ecco qui Il bra Che vi Facevo vedere Prima Guardate Le spalle Le spalle Con questi elastici Che si incrociano Della parte superiore delle spalle E quella della schiena Si incrociano Come vedete anche sulla davanti Il bra Ragazzi Il top Anche questo è comodissimo Leggings ad alta vita Come vedete Il tessuto Molto aderente Anche questo Sta con me Una seconda pelle E' qualcosa di Stupendo Dire il vero Mi son vista Abbastanza bene Anche con questo Guardate il retro La scritta Oceans Apart Sul retro Del leggings C'è il logo Anche sul lato Sinistro Pratico Comodo E come vi dicevo prima Lo potete usare Lo potete usare Non solo per la palestra Ma anche per il tempo libero E per Anche in casa Tranquillamente Il set Il set Si conclude Con L'ultimo accessorio A manica lunga Vedete Com'è Vi ho fatto vedere prima Traforato 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 Sulle braccia E sul fianco Veramente 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 Mette L'esalto Le nostre curve Le nostre Il nostro fisico Veramente Molto bello ragazzi Io mi sono innamorata Di questa azienda E sul sito E sul sito Ci sono prodotti Ragazzi Stupendi Veramente C'è l'improzzo Della scelta Ma poi Vedete Com'è triggeroso Cioè Ci si può fare Anche ASMR Con questo set Sicuramente Lo indosserò spesso Passiamo adesso Al terzo set Il terzo set E' il Jessie Set Deluxe Composto da Jessie Punt Jessie Bra E Jessie Long Sleep Io ho scelto Questo Fantastico Verde E Del quale Mi sono Innamorata Subito Questo E' il Jessie Bra Anche questo Al suo interno A delle coppe A delle coppe Removibili Vedete? Ci sono le coppe Removibili Perché potete scegliere Anche di Toglierle Molto Molto elastico Anche questo Tessuto Modellante Performante Al 100% Al 100% Un'asciugatura Rapida E Traspirante Come è Tessuto Molto Resistente Molto Molto resistente E' Un top Davvero Bellissimo Che indosso sta Una Meraviglia La cosa Bella Che Vi posso dire Che Potete Comprare Ora Se vi va E Pagare Dopo Con Clama E Troverete In dettaglio Il link Appunto In descrizione Cliccando Nel link Potrete Capire Di che cosa Vi sto parlando Quindi Con Clama Potrete Acquistare Adesso E Pagare Dopo Vi faccio Vedere Adesso Il secondo Componente Di questo Bellissimo Set Che Appunto Il Band Ossia Il Leggings Molto Policolare Come vi dicevo Anche questo È Adatto Per Chi È Di media Statura Elastico Alto Vida Alta Tessuto Anche questo Performante Vi regalerà Uno splendido Effetto Push Up Sul fondo Schiena È davvero bellissimo Ragazzi Io lo adoro Credo che questi colori Mi stiano bene indosso Mi stiano bene indosso E Riusciarti Per quello Sub L'elastico elastico L'ultimo componente È Il È Questa Velva Con il logo qui Oceans Abort È Troppo Bello Questa Ha un cappuccio A differenza Dell'altra velva Che vi ho mostrato prima Questa Ha il cappuccio E Anche questo Corto Come L'altro E Lo potete Stringere Per farlo Diventare Ancora Più Corto Vi regalerà Un fisico Eccezionale Da Retro E Così E Le maniche Le adoro Perché Anche qui Potete Passare la mano E il pollice Da questa parte Ora vedrete Come mi sta indosso E Vi regala un effetto Molto particolare Veramente Ragazze Ma soprattutto Amo il colore Amo La rifinitura Del logo Dell'azienda Troppo bella Ragazzi Troppo Troppo Questi prodotti Io Ve li straconsiglio E Li trovo Magnifici Sia da vedere Ma soprattutto Da Indossare La vestibilità La vestibilità E' eccezionale Le taglie Potete Prendere Tranquillamente Le taglie Farvi Una Utilizzare La guida Che trovate sul sito Alle taglie E Prendervi Appunto La taglia Con un metro Da salta Non sbaglierete La taglia Assolutamente Così come ho fatto io La taglia E' praticamente Quella Giusta E mi sono Trovata Benissimo Io Spero Che Questo Video Vi sia piaciuto Sono Rimasta Veramente Molto Soddisfatta Sono Felice Di aver Collaborato Con questa Azienda Ragazzi Un'azienda Speciale I prodotti Sono Di ottima Qualità E regalano Veramente Un fisico Sublime Direi che l'occasione E' vantaggiosa Ecco L'Uld Ragazzi Poi Vi dovete dire Quale mi sta meglio Allora Il braverde Guardate che colore Stupendo Stupendo Proprio Cioè Io mi sono subito innamorata Di questo verde Il retro è Wow Con il logo Dell'azienda Veramente Comodo Adosso Ragazzi Poi le coppe Come vi dicevo Se volete Le potete Estrarre E indossare Anche senza A vostro Piacimento Davvero Spettacolare Per me Lo adoro troppo Anche questo Lo adoro troppo Anche questo Il leggings Super comodo Ragazzi L'effetto push up Guardate Stupendo Delle forme pazzesche Davvero Un super Perfetto push up Garantito Anche qui Potete trovare La stampa dietro Ci tengo poi a sapere cosa ne pensate come vi sta addosso ecco la serba di un verde Anche lei Anche lei stravigliante Anche lei stravigliante Si accorgia Anche lei si accorgia Anche lei si accorgia Per un effetto Wow Wow Adoro la scritta ocean support sul petto questo cappuccio bellissimo è veramente spaziale praticità, comodità, estetica, tutto in un unico set bellissimo ricordate il codice sconto Mary Jane con un carrello minimo di 79 euro avrete un altro set a scelta gratuito grazie di cuore per essere stati con me spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi